Tutto evolve rapidamente. Il modo di comunicare, conoscere, imparare, stare insieme. La bellezza assume nuove forme. I pazienti, figli di un mondo veloce, digitale, e loro stanno cercando te. Comunicare con loro, un'occasione unica. È il tuo momento. Sei protagonista. Puoi realizzare il tuo capolavoro. Vuoi dimostrare il tuo valore. Cogliere l'opportunità. Hai stretto un'alleanza con chi ti conosce bene, sa quanto vali, e ti offre il suo supporto per valere ancora di più. Hai deciso di innovare. Aggiornarsi, stare al passo, essere sempre connessi. Con impegno, entusiasmo, energia. Insieme a partner esperti per costruire una vita migliore. Per te, per gli altri. Dove ogni cosa può avere il giusto spazio. Un sorriso. Il lavoro. Gli affetti. Le emozioni vere. Più tempo per te. Un presente migliore che ha avuto inizio da qui. Dal valore generato dall'alleanza. Valuance. Value through alliance. La domina del caos. La domina del caos. La domina del caos. S установila dirvi. Olisare il paese. La domina del caos. Grazie a tutti. Grazie a tutti.